Alessandro Magno e l'Oriente, Picasso e l'Antico, le Guerre del Celeste di Ella Berendt. Continua a essere meta di pellegrinaggio di turisti italiani e internazionali, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tanti i biglietti staccati ogni giorno per visitare le mostre e le collezioni conservate presso il polo museale, sempre più scelto non solo da storici, archeologi ed esperti, ma anche da famiglie e giovani turisti. Con la mostra dedicata all'artista tedesca e quella in onore di Alessandro Magno a pochi giorni dal termine, fissato nel primo caso per il 4 settembre e nel secondo caso per il 28 agosto, e con la proroga dell'esposizione dedicata a Picasso fino al 2 ottobre, l'afflusso al Man continua a essere importante. All'ingresso del museo abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni avventuri, ecco perché hanno scelto di visitarlo e quali sono le loro aspettative. Stupendo, bellissimo, è una tappa che consiglio a tutti i visitatori che vengano a Napoli, sicuramente. È meraviglioso, ha delle collezioni infinite e pezzi unici. Siamo venuti a visitare Napoli e stiamo andando al Museo Archeologico e in particolare ci interessava la mostra su Alessandro Magno. Sognavo da tempo di vederlo e spero che mi regali le emozioni che immagino possa regalarmi. Ho visto per esempio anche i viaggi in Italia di Rossellini e lì era veramente una cosa travolgente, quindi penso che sarà una visita che merita davvero.